E' un monte soggetto a frania, lo dice il suo nome stesso, che deriva da Patog. Ci sono i video con le immagini dell'epoca, le foto dei volti, di chi visse la tragedia, di chi vide la casa e gli affetti scomparire sotto la furia dell'acqua straripatta dalla diga, sotto quell'onda di morte che distrusse l'ongarone. 50 anni fa il Vaionte, 50 anni sono passati anche dalla fondazione del gruppo Alpini di Villa del Conte, che proprio al Vaionte ha voluto dedicare una mostra. Sì, stavamo guardando proprio questo fucile, veniva chiamato e rimane ancora famoso come Tapum, un fucile usato dagli Alpini, un reperto che è stato trovato tra i detriti a seguito del Vaionte. Questo ci serve per agganciare il discorso della presenza degli Alpini, tra i quali c'è stato anche un Alpino del nostro gruppo, un gruppo di Villa del Conte, Cristiano Marangoni. Le penne nere venete prestarono soccorso alle popolazioni della valle colpite dal disastro naturale dopo la frana del Monte Toc. In molti partirono perché essere alpino vuol dire questo, sostegno incondizionato e dedizione al paese. Vogliamo che, siccome anche molti hanno vissuto questa tragedia, possano rievocare i momenti, le emozioni e possano trasmetterli, diciamo, a loro volta a quelli che non l'hanno vissuta. Le celebrazioni per i 50 anni dalla nascita dell'ana di Villa del Conte inizieranno domani con il pranzo nella tensostruttura di Piazza Vittoria e culmineranno domenica 29 settembre con la sfilata e l'inaugurazione di un parco. Gli Alpini sono sempre stati presenti, già da allora hanno fatto un lavoro immenso, sono stati i primi a soccorrere, non sono stati gli unici ovviamente. A noi piace ricordare più gli Alpini, ma non possiamo dimenticare anche tutti gli altri che si sono adoperati, come sono abituati a fare, dal Vaillant al Friuli e ultimamente all'Aquila.